I mille risvolti di un caso di cronaca lungo e complesso come quello del delitto di Meredith Kercher sono stati analizzati in un libro che ne ricostruisce la vicenda processuale e che però è diventato, diventa anche uno spunto di riflessione sull'immagine della città di Perugia dopo questo delitto. Mino Lorusso. Quella storia si è svolta a Perugia ma come teatro, ma non c'era... Perugia ha dato soltanto il luogo in cui è stato commesso purtroppo un delitto atroce. Una città teatro di un delitto che tuttavia è inciso sull'immagine e questa è una delle tante letture del delitto della studentessa inglese Meredith Kercher, un delitto dalle tante facce con una componente internazionale per la diversa provenienza dei protagonisti con un percorso giudiziario tortuoso caratterizzato soprattutto da un impatto mediatico senza precedenti. Reperto 36, un libro scritto da Alvaro e Luca Fiorucci, presentato su iniziativa dell'Isola del Libro nella sala della Vaccara a Perugia, ricostruisce la vicenda, ne mette in luce le diverse letture. Nonostante l'esito processuale, il caso resta aperto, un solo responsabile accertato, sentenze tra loro in contraddizione e la città che l'ha subito, subito sembra averlo archiviato. È stato un momento internazionale anche a livello di mezzi di informazione, anche a livello di sistemi giudiziari diversi. Potrebbe essere l'occasione a distanza di anni per riflettere sul futuro di questa città, la sua vocazione internazionale e studentesca che non può essere certo messa in discussione da un avvenimento come quello del caso Meredith.